buongiorno a tutti oggi nel salotto di volto tv c'è venuta a trovare l'associazione ate associazione trauma e in cifaglici e abbiamo due persone molto importanti con l'associazione una è la presidente laura bellagarda e l'altra la dottoressa sabrina sapienza psicologa psicoterapeuta responsabile della direzione scientifica laura la prima domanda la faccio a te e ti chiedo ma raccontaci un po come è nata questa associazione e le finalità che ha questa associazione certo marco allora io oltre a essere la mamma di un ragazzo utente di questa associazione un ragazzo che ha esiti da trauma cranico rappresento come presidente volontaria l'associazione ate l'associazione nasce nel 1993 è stata fondata da un gruppo di medici terapisti del presidio maria ausiliatrice sono stati lungimiranti in questo senso perché hanno previsto l'esigenza dei loro pazienti di avere un supporto a lungo termine ben oltre quello che prevede come riabilitazione il servizio sanitario nazionale quindi è da allora che si occupa fornendo gratuitamente ai loro utenti questo supporto questo servizio e sostenendo anche i familiari il vostro impegno come volontari è sicuramente gravoso come tutti i volontari sia da un punto di vista diciamo del tempo che voi ci impegnate che da un punto di vista economico anche giusto quindi avrete sicuramente bisogno di sostegno che cosa possiamo chiedere ai nostri amici per aiutarvi a sostenervi certo grazie della domanda Marco allora noi ci sosteniamo con le donazioni con il 5 per 1000 con l'aiuto anche del centro servizi il volto che ci fornisce gli spazi per poter effettuare queste nostre riunioni queste nostre assemblee e poi con l'aiuto di amici eccetera ci autofinanziamo è chiaro che le risorse sono poche volendo fare anche di più ad esempio abbiamo visto in questa fase di covid eccetera l'esigenza di poter dotare i ragazzi di supporti informatici non tutti ce l'avevano abbiamo comunque fatto videoconferenze eccetera però ecco di poter disporre di questi materiali che comunque hanno un costo per noi sarebbe un grande vantaggio in due parole se uno vuol fare il volontario da voi come deve fare e che tipo di persona ricercate come volontario certo allora i nostri volontari sono comunque persone che sono studiosi della psicologia o comunque di materie di tipo terapeutico che poi magari la dottoressa sapienza vi spiegherà meglio basta contattare all'indirizzo mail che troverete poi verso la fine e io poi vi metto in contatto appunto con la nostra responsabile scientifica e comunque sì abbiamo bisogno di altri volontari di operatori ma sempre bisogno di fare una continua formazione anche degli operatori sì grazie grazie a te Laura adesso parliamo con la dottoressa sapienza lei si occupa della direzione scientifica ci può spiegare in termini che possiamo capire tutti che cosa significa avere una lesione cerebrale e cosa comporta per la persona che l'ha avuta questa lesione sì cercherò di essere semplice avere una lesione cerebrale significa che il cervello subisce un danno che può essere traumatico quindi un danno da incidente stradale, incidente sportivo quindi esterno, un agente esterno oppure interno quindi un aneurisma, un ictus e cosa succede? Che il cervello non funziona più come funzionava prima quindi dopo un periodo di riabilitazione che in genere è molto lungo quindi immaginiamoci che le persone che hanno avuto questa lesione hanno bisogno di almeno uno, due, tre anni a volte di riabilitazione intensiva e poi gradualmente questi interventi terapeutici si riducono e quindi la persona ha bisogno di trovare una nuova possibilità nella realtà quindi ritornare al lavoro se possibile oppure se non è possibile individuare un nuovo progetto di vita e l'associazione si occupa proprio di questo cioè di continuare a fornire degli stimoli per le persone una rete sociale perché purtroppo questi eventi fanno sì che vengano perse alcune funzioni possono essere funzioni cognitive quindi la persona ha problemi di attenzione, di memoria non riesce a svolgere da sola delle semplici azioni quotidiane e quindi ha bisogno di assistenza o di supervisione oppure ha dei problemi motori quindi non riesce a muoversi come prima magari non è in grado di guidare l'auto non riesce sempre a prendere mezzi pubblici quindi c'è bisogno comunque di fare sì che anche in queste situazioni sia possibile comunque essere attivi e svolgere delle attività piacevoli anche nella vita quotidiana è per questo che l'associazione crea proprio delle occasioni sia di riabilitazione specifica quindi dei laboratori che vanno a stimolare l'attività cognitiva oppure delle attività resocializzanti quindi delle attività in cui si sta insieme, si parla, si facilita l'iniziativa perché spesso anche questo è un problema cioè le persone non hanno l'iniziativa di svolgere da soli delle attività quindi c'è bisogno di una continua stimolazione Rispetto per esempio al rapporto con le famiglie di questi utenti che penso che sia una cosa abbastanza importante Le famiglie sono le cosiddette vittime secondarie di questi eventi nel senso che la persona che ha avuto la lesione cerebrale è sicuramente la vittima principale perché ha perso delle autonomie però questo significa che i familiari devono cambiare il loro ruolo quindi devono svolgere un ruolo di assistenza, di supervisione e quindi accanto alla sofferenza della persona che è vittima della lesione cerebrale c'è anche la sofferenza del familiare che deve anche ridimensionare i propri progetti magari rispetto al figlio, al coniuge e per questo l'associazione ha un ruolo molto importante rispetto a fare sì che le persone, anche i familiari, possano stare insieme condividere le loro esperienze, supportarsi a vicenda e quindi si è proprio una rete di supporto allargata rispetto a quello che può essere la piccola rete familiare che è sicuramente importante però essere inseriti in una rete associativa è diverso anche perché spesso le persone non capiscono che cosa significa aver avuto una lesione cerebrale o avere un familiare con una lesione cerebrale noi siamo un po' condizionati dai film in cui in film ho un incidente, vado in ospedale, due settimane esco e sono come nuovo e non è così e quindi noi abbiamo dei laboratori appunto gestiti da degli psicologi sostanzialmente sono o psicologi o persone che proprio per formazione si occupano di attività riabilitative o ricreative per questo anche rispetto ai volontari noi abbiamo bisogno che siano formati specificatamente su che cosa vuol dire avere avuto una lesione cerebrale perché a volte ci sono anche disturbi comportamentali quindi le persone magari non sono proprio in grado di gestire l'interazione con gli altri quindi c'è bisogno di qualcuno che sia preparato a gestire queste eventuali interazioni inadeguate Grazie, è stato interessantissimo Grazie a te Marco Continuiamo il nostro percorso in questa associazione Ate incontrando due persone che si occupano più tecnicamente del progetto Allora uno è il dottor Marco Perri che è uno psicologo e psicoterapeuta e la dottoressa Loredana Cimmino anche essa psicologa e psicoterapeuta diciamo che per cavalleria comincerò da Loredana ovviamente Allora puoi descrivere qualche attività che fate con questi ragazzi queste persone nell'associazione? Certo Marco innanzitutto noi ci incontriamo due giorni alla settimana al volto che ci ospita gentilmente da diversi anni e le attività sono tarate e quindi adattate sulle esigenze e sui bisogni degli utenti ai quali ci rivolgiamo Uno dei punti di forza nostri che ormai da tanti anni portiamo avanti è un laboratorio di riabilitazione delle funzioni cognitive quali la memoria, l'attenzione, l'orientamento che come ci diceva prima la dottoressa Sapienza sono un po' compromesse dopo un evento traumatico del genere e lo facciamo attraverso giochi cognitivi momenti esperienziali e offriamo agli utenti delle strategie per mantenere più a lungo l'informazione così da vivere meglio anche le attività di vita quotidiana infatti i miglioramenti se la partecipazione è costante sono visibili e sono anche sorprendenti infatti le possibilità di migliorare grazie alla plasticità del cervello che ci permette proprio di andare a approfondire proprio la parte danneggiata così da trovare dei miglioramenti e ovviamente più costante la partecipazione di queste persone agli incontri più a lungo sono mantenuti i risultati di miglioramento dell'attenzione, della memoria in generale delle varie funzioni cognitive a te invece Marco volevo chiedere ma questa attività che fate come stimola la sfera sociale e relazionale che ho sentito anche prima è una delle cose importanti per queste persone è un valore aggiunto della nostra associazione è proprio orientate uscite è un laboratorio che coinvolge i nostri utenti in attività che si svolgono nella città metropolitana di Torino quindi si va a lavorare soprattutto su quello che è un aspetto ludico, ricreativo che può coinvolgerli ma anche un vero e proprio reinserimento sociale perché noi chiediamo ai nostri utenti di assumere un ruolo primario nella scelta di eventi, manifestazioni, luoghi in cui fare delle uscite o delle gite insieme in cui loro assumono un ruolo davvero primario nella scelta di questi eventi secondo i loro bisogni Bene Loredana siete sempre in divenire nelle cose che fate perché uno si migliora sempre ci racconti qualche nuova proposta che avete? Sì, infatti noi siamo proprio un contenitore flessibile cerchiamo proprio di dare questa flessibilità anche nelle nostre proposte quindi di anno in anno cerchiamo di adattarci sempre di più ai bisogni dei nostri utenti e due sono infatti le nuove proposte dello scorso anno che abbiamo portato avanti e che continueremo a farlo grazie ai risultati raggiunti e che sono un gruppo di meditazione un percorso di sostegno psicologico e familiari in quest'ultimo caso riteniamo importante prenderci cura dei familiari e non è possibile infatti prendersi cura solo dell'utente senza considerare l'impalcatura familiare che è alle spalle quindi offrire un percorso di sostegno uno spazio di condivisione delle emozioni della sofferenza o anche affrontare dei piccoli successi che avvengono in casa è importante proprio per alleggerire la situazione e distendere un po' di tensione che sicuramente un trauma cranico porta nelle case e nelle famiglie di queste persone e un altro gruppo di meditazione un altro gruppo importante di cui siamo molto orgogliosi è il nostro gruppo di meditazione sappiamo che la meditazione è la capacità di stare sul momento presente di godersi le piccole cose quotidiane e quindi in un momento in cui è difficile stare sul qui ed ora perché la vita non ci ha regalato proprio qualcosa di piacevole allora è importante allenare questa capacità così da allontanarsi da un passato che sembrava perfetto e da un futuro che è difficile da programmare perché tanto è il dolore e la sofferenza spesso di queste persone e in questo scarto temporale che allora si inserisce la meditazione proprio per ridurre questa sofferenza e questo malessere e allora godersi le piccole cose attraverso il corpo il respiro anche apprezzare di più le relazioni che si vivono e i piccoli cambiamenti quotidiani aiutano proprio le persone a ritrovare quella serenità spesso perduta dimenticata e a ritornare a sorridere ma un sorriso sincero sano e di questo noi siamo proprio orgogliosi e speriamo di allargarci sempre di più così da coinvolgere sempre più persone ma tutte queste attività sono numerose interessanti ma raccontaci ancora perché so che ne fate tantissime quindi se ci racconti ancora qualcosa perché è fondamentale capire come di fronte a questa problematica un'attività che a volte sembra banale invece diventa fondamentale per Settuni certo sono diverse le proposte dell'associazione Ate abbiamo negli anni fatto diverse esperienze ad oggi manteniamo vivo il laboratorio teatrale che ha una conclusione naturale in uno spettacolo in cui gli utenti sono coinvolti alla fine dell'anno delle nostre attività abbiamo un laboratorio di arte e disegno condotto da due arte terapeute inoltre un appuntamento ormai storico per i nostri utenti è il laboratorio Cine Parlando in cui loro possono scegliere ma soprattutto vengono selezionati dei film o dei cortometraggi adatti per lasciare che vengano espresse sensazioni ed emozioni che poi verranno discusse vengono discusse a seguito della proiezione grazie non si può dire nient'altro grazie a te Marco e adesso finiamo la puntata con un filmato che ci avete portato dove tutto quello che voi ci avete raccontato lo vediamo lo vediamo in opera grazie ancora grazie a te sono qui raccolti alcuni lavori realizzati nell'arco di un ventennio e che danno la percezione del risultato ottenuto dall'impegno che i nostri soci hanno dimostrato con la partecipazione ai lavoratori questi hanno dato loro il senso di appartenenza a un gruppo aiutandoli a sostenere la volontà e la capacità di relazionarsi in modo più soddisfacente con il contesto sociale condividere la propria esperienza in una condizione di disabilità con nuovi progetti di vita in riferimento alla propria parte sana contribuisce a diminuire il senso di isolamento esistenziale che è una caratteristica costante della vita di chi ha subito un trauma il mercoledì insieme con cadenza settimanale ha realizzato laboratori condotti da professionisti specializzati neuropsicologi maestri di diverse discipline quali insegnanti di disegno grafici maestri di tai chi e volontari esperti la cui collaborazione è fonte indispensabile per cercare di raggiungere gli obiettivi che l'associazione si propone il processo di integrazione dato dalla partecipazione attiva ai laboratori dell'associazione ha favorito lo sviluppo di una memoria di gruppo condivisa senza la quale non sarebbe stato possibile effettuare alcun intervento il gruppo ha quindi fornito ad ognuno di loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane mantenendo una certa autonomia e individualità restituendo loro una forte iniezione di fiducia ed autostima per la partecipazione di un'esercizio di un'esercizio Grazie a tutti.